Siamo abituati a vedere un territorio tranquillo ma non ci rendiamo conto che la mafia predilige proprio i territori tranquilli per poter riciclare quell'enorme denaro che viene dall'illecito quotidiano di tutti i giorni. E dopo i numerosi sequestri di beni avvenuti in centro Italia ed in Toscana che hanno coinvolto anche Anghiari dove i sigilli sono scattati per un albergo ed alcuni terreni secondo gli inquirenti acquistati con il denaro proveniente da traffici illeciti legati all'andrangheta che il Partito Democratico ha organizzato proprio ad Anghiari un momento di informazione ed approfondimento sul tema delle infiltrazioni mafiose. Gli eccellenti arresti che la Polstrada, la Polizia e i Carabinieri hanno fatti in questi anni e dimostrano appunto sul territorio aretino sono passati e hanno fatto affari oltre 64 grossi capi mafiosi. Occorre che tutti i soggetti interessati, cioè che si faccia davvero rete, quindi che ci siano, sarà un momento nel quale saranno chiamati a riflettere su questo fenomeno sulla necessità che si affronti insieme tutte le categorie economiche, tutto il sistema delle organizzazioni sociali piuttosto che tutti gli enti locali tutti coloro che hanno come dire il compito, la competenza e il dovere di difendere il nostro territorio. L'iniziativa si è svolta proprio nel giorno in cui è stato arrestato a San Paolo in Brasile il latitante dell'andrangheta Vincenzo Macri esponente epicale della cosca commisso legata anche alle ultime cronache retine. Secondo gli inquirenti infatti l'albergo di Anghiari sarebbe stato acquistato con il denaro proveniente dal narcotraffico legato al clan commisso. La criminalità organizzata investe su questo territorio, nelle attività economiche di questo territorio. Non abbiamo notizie di insediamenti, però nessuno è al riparo. Dopo i soldi e le attività economiche se non c'è attenzione può anche succedere che ci sia un insediamento della criminalità organizzata.